buonasera questa sera vorrei fare un aperitivo un po particolare guardare due diapositive chi di voi non ha mai guardato delle diapositive a casa degli amici magari doppia coppia con lei simpaticissima codio dove partiamo le mie diapositive pisa venezia venezia data via anche la gondola verona grazie il friuli parigi parigi ho sbagliato champignon 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 buona serata